Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video Tornati su TheLegendCraft, ragazzi, come sempre, in D.O.P. LuckyPrison Oggi ragazzi cosa andremo a fare di bello? Andremo ad appende i nuovi regali che sono arrivati in ordine Già Michele e Ninja mi stanno aiutando e grazie, grazie, grazie Comunque, prima cosa facciamo salutare YouTube e poi proseguiamo col nostro da farsi Ok, eccoci qui, ragazzi, ultimamente sto vedendo che sto facendo molte, molte, molte live Oddio, voglio potersi dire, Luke, due ne hai fatte, però ne sto facendo, per me sono molte in confronto a che non ne facevo proprio Grazie a queste live sto facendo iscritti, perché, ragazzi, uno si chiede perché Luke fa tante live, cerchi di fare tante live, eccetera Ragazzi, attraverso le live mi faccio conoscere meglio, mi conoscono meglio per quello che sono Ed è meglio così, alla fine, alla fine è meglio così E qui che... sono finiti tutti i cartelli, sono finiti... vabbè, comunque sto dicendo Queste live cosa sto facendo per chi se lo chiede, per chi non le segue, perché, ragazzi, ci sta che non le seguiate Perché molti sanno che il laggo è... perché la mia connessione non è l'ultima che esiste, no? Non è la fibra ottica, diciamo Quindi laggo, purtroppo Comunque, porto la mia serie Minecraft ad obiettivi Adesso, per la nuova serie che dovremmo iniziare, non ho ancora scelto cosa fare Perché capite, la Sky Factory, non so, un bel pacchetto moddato, però, purtroppo il mio vicino è un tanto la regge Per chi mi lagga un po', quindi capitemi, potete pur capire Zmanupvp Levati, 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 ok Quindi, siccome mi avvicino un tanto la regge, non lo posso fare Ragazzi, comunque, come sempre, vi invito a venire nel mio lotto per farmi dei regali e finire in bacheca Siamo già al centosesimo regalo, ossia quello che sto scrivendo, quindi vi ringrazio tutti Dal primo all'ultimo che mi ha fatto regali Ragazzi, se avrei dovuto... cioè, se avessi messo... ok, vivo il italiano corregiuto Se avessi messo tutti i regali che avete fatto, compreso, diciamo, i doppioni Ossia più... tutti i regali, senza calcolare questo doppio, questo no Ossia tutti questi Sarei arrivato tranquillamente anche ai 200, perché sono davvero tantissimi Però vabbè Una cosa, ragazzi, volevo legge un po' di regali Molti ragazzi mi hanno regalato i kit, se era killer, questa roba qui E vi invito, ragazzi, a commentarmi dicendo Lucco, sono stato io, ok? Allora, questi sono libri vecchi Questo qua, ok Lucco, sono sempre due regali, ok? Alcuni ragazzi hanno libri vecchi, quindi non ricordo bene Nonimio No, questo è un altro Ok, no, ragazzi, alla fine sono tutti letti Volevo leggerli, ma credo di averli letti tutti, eh Non sono sicuro che li ho letti in un video, però li ho letti sicuramente per conto mio Allora, ragazzi, come vedete, ho 316 milioni Però non ho intenzione per spenderli, per rankare Vabbè, molti dicono Lucco, ma devo una vita che non ranki? Ma che cazzo? Raga, io non ranko da una vita Perché busto Michele, busto Ninja, busto i miei coinquilini Come si dice? Ah, il kit ce l'ho? Sì, ciccio Come si dice, busto i miei coinquilini E di conseguenza non ho molti soldi Ma adesso, i soldi che ho Voglio conservarli, appunto, per fare Un sacco di Netherstar Voi volete dire cosa sono i Netherstar I token, ragazzi Cosa sono i token? Quelli che servono per comprare gli Enchant Però, ragazzi, non lo farò per scopo personale Eh, no, 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 no Lo farò sempre per voi Vorrei fare un give, ragazzi, di tutti i kit fuggitivo O altri kit che riesco a raccimulare Più le Netherstar E come speciale mille iscritti Che siccome si sta avvicinando a questo traguardo Grazie a voi che condividete Mettete mi piace E vi invito a farlo Se no, come sempre, non continuo il video E non continuo Mi metto qua Non continuo il video No, comunque, ragazzi, a parte iscriversi Vi invito a lasciare il like come sempre Per farmi capire che la serie la volete Che portiamo avanti Vediamo un po' se c'è la, tipo, la gesta donazioni Comunque, sto dicendo, per i miei iscritti Ragazzi, vorrei fare questo give mega speciale Però tutto dipende da voi In che senso Dipende anche, a parte gli iscritti Ma dipende anche se riesco a comprare Abbastanza roba per fare un give decente Roba Ah, ma sono aggiunto, no E se non mi aggiungo Ah, sì, ok Eccolo qua Fuggitivo, fuggitivo, fuggitivo Fuggitivo, fuggitivo, fuggitivo Fuggitivo, fuggitivo Fuggitivo, fuggitivo E questa è roba mia Ok Tanto piacere Adesso noi andiamo al mio PH E siamo a posto Prego, prego Ciccio Kong Allura, 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 allura Come potete immaginare, raga Per fare questo secondo piano Ci è voluto abbastanza Per chi non sa come si sale Semplicemente si fa così E invece di andare dritto per dritto E fare Boom Boom Fate così Ragazzi è stato il miglior modo Per non coprire tutte le entrate E non fare cagate Quindi facciamo così Si sale Potete leggere tutti i vostri Bellissimi regali Che mi avete fatto Trovare dove siete messi Nella bacheca Io spero ragazzi Che tutto ciò si riempirà Da una parte Il prima possibile Perché ci tengo Che fate regali Così arriveranno anche I più speciali Però da una parte Il più tardi possibile Perché se no Dovevo fare altri mura Proprio fino a che non si sale Lontanissimo proprio Pochi come te Ciccio Kong Non fare troppo Il ruffiano Perché io te l'ho fatto col cuore Non sai che mi lecchini Vabbè ragazzi Lo so che alcuni Non lo dicono apposta Per fare i fighi C'è nel senso Non lo fanno apposta Perché Un giorno Gli darò i mega kit Perché davvero Credo in quello che dicono Vabbè non so Che sto dicendo Ma noi siamo tutti felici E contenti Comunque ragazzi Io davvero Vi invito Più che vi spero Che significa Vi spero Vi invito Ad entrare nelle live Venirle a vedere Nonostante si vede un po' scatti Molti si divertono Ci divertiamo Dedico poi sì A qualcuno di voi Quando c'ho voglia Quindi facciamo cose particolari E vi invito a vederle E poi ragazzi Come dico sempre Voi di The Legend Andate a vedere Anche gli altri video Perché non è possibile Che nei video di The Legend Si arriva sempre alle 200 Anche a volte A volte 300 visual Però Non vengono calcolate Le altre serie Quindi ragazzi Io vi invito molto Ad andare a vedere gli altri video So che molti già lo fanno E vi ringrazio Però vi invito a vedere Anche gli altri Ok È giusto così Per Diciamo Per migliorare Una po' la situazione No? Diciamo bene Comunque ragazzi Per il prossimo give Vi informo O saranno i 200 regali O 150 Al di fuori Del give Dei 1000 iscritti Vi raccomando Mi farebbe molto piacere Ragazzi Entro fine settembre Spero con tutto il cuore Di riuscirci Ad arrivare ai 1000 iscritti In modo che a fine anno Ci stabiliamo Un altro importante traguardo Che adesso Non ho intenzione di dire Magari Quando a breve Farò un fuck time Ragazzi Che penso che Allora vi spiego un po' Tutto quello che succederà Ragazzi Come sempre Nei video di The Legend Parlo poco del server Ma più dei progetti Perché Che la maggior parte Ripeto come prima Guardano molti I video di The Legend Cosa ci sarà Per gli speciali 1000 iscritti Un give Cercherò di farlo qui Poi Vorrei fare Un fuck time E poi rispondere alle domande Non so Tipo alle 100 domande Roba così 100 cose Che non sei su di me Quelle domande Già prestabilite Più le vostre Poi Che altro Una challenge Si potrebbe fare una challenge Un bondage Diciamo dei momenti Più speciali Non è che ce ne sono Perché ragazzi Nei porto horror E questa roba qui Però Ci possono essere Molte cose interessanti Anche un live Potrei fare Potrei fare di tutto E di più Molti hanno detto Luke Perché non crea un gruppo Telegram Nei quale noi Ti possiamo parlare Ragazzi In caso lo riesco a creare Lo trovate in descrizione Oppure nei commenti Dico riesco a crearlo Per quando esce il video Se non riesco Il prima possibile Esce Quindi un gruppo In cui potremmo parlare Eccetera eccetera Oppure fare Un video speciale Sui troll O roba del genere Ragazzi Voglio anche avere Un vostro supporto Riguardando L'idee Per fare degli speciali Comunque ragazzi Non so che dirvi Come sempre Io questi video Li sfrutto molto Per parlare Più che altro Vabbè Vi invito a lasciare like Commentare Condividere Come sempre vi ripeto Se volete fare dei regali Sono ben accetti E volete messi Sulla bacheca Comunque like Commento Condividete Iscrivetevi al canale Ci becchiamo Alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti